Il 20% della popolazione femminile del pianeta ha subito almeno una volta nella vita aggressioni fisiche o sessuali, nel 52% dei casi non viene rivelato, per le donne tra i 15 e i 44 anni la violenza è la prima causa di morte o di invalidità. Io sono qui e vuoi credere in me, io sono qui e vuoi fidarti di me, io sono qui e vuoi credere in me, io sono qui e vuoi fidarti di me. Lo so che non è facile guardarsi allo specchio, i lividi, le botte, le sofferenze nel petto, un uomo che per anni ti ha rinchiuso in una casa e ha fatto di te una propria e vera schiava, un marito, una bestia col fare da padrone, si è preso la tua vita e ha tolto la ragione, uccidendo i tuoi sogni, i tuoi progetti, i tuoi bisogni, per renderti complice dei suoi gesti folli. Hai passato i tuoi giorni chiuso in una stanza con i bolsi legati e una bocca tappata, e tu che piangevi, gridavi, ti straziavi, ma niente serviva, tanto lui non si fermava. Stavi subendo l'ennesima violenza, tu stavi compiendo l'ennesima sciocchezza, quando quella notte con quella lametta, stavi per toglierti la vita e l'esistenza. Io sono qui e puoi credere in me, io sono qui e puoi sudarti di me, io sono qui e puoi sudarti di me. Ci sono ancora molte donne che non hanno il coraggio di ribellarsi o denunciare il proprio ragazzo, ragazze che ogni giorno vengono picchiate, ragazze che ogni giorno sono violentate, ragazze minacciate, che vengono costrette a starsene in silenzio, lontane dalle scelte, ragazze abbandonate, sole senza niente, che vengono isolate e cacciate come prede, tante campagne contro le violenze, vi stanno aiutando, ragazze state attente, stanno aiutando, ragazze siete delle donne, non siete delle bestie, fatevi valere e ragazze combattete, basta difendere e basta proteggere, uomini malati che vi mettono in manette, cambiate la storia e date una speranza a donne come voi che sono ancora in quella storia. Io sono qui e vuoi credere in me Io sono qui e vuoi studiarti di me Io sono qui e vuoi studiarti di me Io sono qui e vuoi studiarti di me Ed è quello che le donne non dicono, quello che paradossalmente viene spesso negato nascosto dalle stesse vittime, il problema più grave Spesso la donna maltrattata non denuncia il proprio maltrattatore, padre, marito o conviventi Per paura, per vergogna, perché si autocolpevolizza o per molti altri motivi La donna maltrattata è una donna sola Uscire dalla violenza si può Si può Io sono qui e vuoi credere in me Io sono qui e vuoi studiarti di 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 me